Green Day Gecko Poi fatti i gecchi e qua all'interno si uccidano del colino Poi fatti i gecchi e qua all'interno si uccidano del colino Poi fatti i gecchi e qua all'interno si uccidano del colino Poi fatti i gecchi e qua all'interno si uccidano del colino Poi fatti i gecchi e qua all'interno All'interno si muestra e qua all'interno? L'interno però è bellaειma Com'è è che lui guardate si muestra anche un paese Ecco, 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 ecco. Grazie per la visione!